La giustizia a domicilio del cittadino fragile arriva anche a Roana sull'altopiano. Tutte quelle pratiche amministrative di sostegno relative a soggetti anziani, malati, con disabilità, fragili appunto, che prevedono che il giudice li veda di persona per poter valutare, ora si possono fare anche a Roana senza venire in tribunale a Vicenza in videoconferenza. Questa nuova possibilità di non dover scendere dall'altopiano per sottoporsi a un'udienza e quindi avere l'udienza, la giustizia che arriva a casa del cittadino, penso sia una conquista importante. Sono quasi 14 i comuni del Vicentino che hanno aderito a questa iniziativa, a questo modo di lavorare e ormai abbiamo raggiunto oltre mille procedure trattate con questo sistema. Ma come funzionerà? Un addetto del comune si recherà con tanto di computer e chiavetta a casa della persona, accederà alla piattaforma ministeriale avviando il collegamento in videoconferenza. Noi abbiamo individuato anche una figura che seguirà un corso di formazione appunto di un monteore abbastanza importante proprio per essere in grado innanzitutto di presentarsi all'utente che necessita appunto di fiducia e di assistenza. Una quindicina le persone nel territorio che usufruiscono dell'amministrazione di sostegno, ma all'anno ci sono generalmente dai due ai tre nuovi casi. Il sistema già operativo in diversi comuni della provincia, da Bassano a Chiampo, da Valdagno ad Arcugnano, per citarne alcuni, ha consentito anche un importante risparmio in termini di chilometri, carburanti e anidride carbonica emessa. Prossimo passo, l'apertura a Roana di uno sportello di prossimità come quelli di Tiene e Bassano.